Che non si cuce, ma non esistono vestiti che non si cuociono. Che non si cuociono. Dove stai andando senza nome? Vai a fare due passi? Fa' attenzione, Maga Cornacchia, è sempre in agguato. Anche Falco è in agguato. Tazzi, hai Falco. E ora per la House of Mouse, acrobazie spettacolari in volo. E ora... Il giorno. La balenotte era azzurra! TipToy, la rivoluzione del gioco interattivo. La festa di me!